L'assessore regionale Mauro Parolini propone in un progetto di legge di unire le AS della Valle Camonica con quella di Brescia, lei è d'accordo? Assolutamente no, sarebbe come unire sale e zucchero e pretendere di avere qualcosa di gradevole. Il problema vero è che la Valle Camonica è profondamente diversa, è un'area di montagna ed è per questo che abbiamo preteso e ottenuto che venisse unita in un'area omogenea come quella della Valtellina e con gli stessi problemi da punto di vista sanitario e quant'altro. Evidentemente Parolini risponde a altre logiche che sono più logiche economiche, monetarie, sappiamo che rappresenta un'area che nella sanità ha avuto sempre tantissimi interessi e quindi probabilmente la Valle Camonica può essere interessante, noi invece rispondiamo a altre logiche, ovvero quella dei cittadini, dei servizi ai cittadini e vogliamo che siano il migliori possibile e quindi ASL di montagna è l'unica risposta possibile.